Oggi parliamo di ripasso strategico, una vera e propria strategia per studiare in modo efficace e in modo particolare. Alla fine di questo video avrai una scheda tecnica con tutto ciò che riguarda questo metodo per apprendere e saprai se è il caso di utilizzarlo nel tuo processo di studio oppure dovresti utilizzarlo in un altro momento, essendo comunque consapevoli di vantaggi, svantaggi, alternative, caratteristiche e tutto quello che riguarda questa scheda tecnica che avrai appunto alla fine del video. Ma intanto iniziamo con la sigla. Partiamo dalla prima informazione essenziale, a che cosa serve il ripasso strategico. Come ci suggerisce il nome stesso è un modo, una strategia, un metodo che possiamo utilizzare per tenere traccia di ciò che abbiamo appreso e questo ci permette durante l'intero processo di studio, quindi questo ci fa capire che dovremmo utilizzarlo sempre, qual è il nostro livello di apprendimento e se ci sono dei punti deboli su cui soffermarci e quali sono invece quei punti forti e quei punti di forza che stiamo iniziando ad alimentare e su questi poi andremo a costruire tutto quello che è il nostro apprendimento per la materia che prepariamo. Secondo aspetto, quando è il momento giusto di utilizzare questa strategia, questo appunto ripasso? Allora a mio avviso dovresti usarlo sempre, te l'ho detto anche qualche istante fa, perché è un metodo che ci accompagna, ma non è troppo rigido, nel senso che puoi andare a creare il ripasso strategico con le tecniche che preferisci di più. Per esempio potresti utilizzare, oltre alla classica ripetizione, delle flashcards o come abbiamo visto nel video di ieri puoi integrare delle domande. In generale, tutto quello che riguarda il ripasso, cioè il ritornare sul materiale per capire cosa abbiamo appreso a sufficienza e su cosa invece dobbiamo ancora insistere, è un modo per tenere traccia di ciò che siamo riusciti ad acquisire in termini di informazioni e quali invece sono ancora oggetto di studio, devono essere oggetto di studio. A questo si aggiunge anche un altro aspetto, cioè quando non dovresti utilizzare questa tecnica di studio, questa strategia di apprendimento. Se ancora non hai studiato o sei proprio alle battute iniziali del processo di studio, non ha senso iniziare a ripassare, perché cosa ripassi se ancora non sai? Quindi aspetta almeno qualche giorno, magari la prima settimana, per iniziare ad avere intanto una bozza di quali sono i concetti principali di ciò che stai studiando. Magari iniziando poi a ripassare e aggiungendo sempre nuove informazioni, si attiva il meccanismo, gli ingranaggi del ripasso e quindi poi diventa sostanzialmente una tecnica, una strategia efficace per studiare. Parlando di alternative, e te l'ho detto anche prima, siccome non si tratta di un modo troppo rigido di studiare, ma le tecniche le scegli tu, quello che ti consiglio di fare è cercare di costruirlo nel modo che sia il più vicino alle tue necessità e alle tue caratteristiche, anche alle caratteristiche di ciò che stai studiando. Quindi se stai, per esempio, preparando una materia in cui ci sono molti esercizi, vai ad utilizzare il ripasso cercando di adattarlo al fatto che ti devi basare molto su aspetti pratici. Se invece la materia è prettamente teorica, allora il ripasso è bene che sia focalizzato, si concentri su quegli aspetti. Quindi non c'è una struttura rigida del ripasso e tantomeno le alternative possono essere altrettanto rigida e quindi vai a costruirlo nel modo corretto in base alle tue necessità. Qual è il vantaggio principale di utilizzare il ripasso strategico? Oltre al fatto che non ci lascia mai, non ci abbandona e ci permette di utilizzarlo in modo molto flessibile lungo l'intero processo di studio e per qualunque materia utilizziamo, al tempo stesso questo ottimizza ciò che facciamo. Perché se riusciamo a prendere su dieci concetti i primi cinque in modo abbastanza buono e invece i secondi cinque devono essere migliorati e dobbiamo soffermarci su questi, ripassando in modo strategico e nel modo corretto sappiamo che il nostro focus non è tanto sui primi ma sui secondi, sul secondo gruppo di concetti e quindi ci ottimizza gli sforzi che dobbiamo fare, le risorse da impiegare e il giorno dell'esame i primi cinque concetti li esappiamo benissimo ma abbiamo anche acquisito il livello di apprendimento adeguato per i restanti su cui prima invece avevamo qualche difficoltà. Concludiamo parlando dello svantaggio principale, ripassare in modo strategico e ripetuto nel tempo potrebbe essere oggetto in un certo senso di preoccupazioni, nel senso che sembra che stai facendo di più di quello che in realtà dovresti fare, perché oltre allo studio devi anche ripassare. Invece, basandoci proprio sul vantaggio che abbiamo visto prima, quello che riesci a fare è sapere esattamente su cosa focalizzarti e quindi in realtà eviti di studiare più e più volte cose che già sai benissimo e ti concentri, anzi concentri le tue energie e le tue forze su ciò che invece ancora è un punto debole che dobbiamo riuscire a gestire. Quindi questo era quello che ti volevo proporre nel video di oggi per il ripasso strategico, adesso hai la scheda tecnica con tutte le informazioni che devi conoscere per sapere se questa tecnica fa al caso tuo oppure no, se dovresti utilizzarlo o meno. Io ti consiglio assolutamente di sì, ma sempre col presupposto di personalizzarla in base alle tue peculiarità. Quindi ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e per la tua attenzione e ti aspetto nel video che uscirà domani.